La minoranza in comune a Dardeno contesta alla maggioranza la partecipazione al bando regionale per la costruzione del polo dell'infanzia che ha visto assegnare al paese della Bassavalle 2 milioni e mezzo di finanziamenti. Non esiste un vero bisogno per la costruzione di un asilo nido e a carico del comune ci sono comunque interventi per 500 mila euro. Se ci fosse la richiesta saremmo i primi a non guardare nessun tipo di costo anche perché darebbe una risposta ad un bisogno sociale che effettivamente c'è. Ma questo purtroppo non c'è e noi ci siamo convinti di andare a realizzare un'altra cattedrale nel deserto. So che servono almeno 500-600 mila euro per la progettazione, per l'arredamento, per le demolizioni delle parti da ristrutturare. Quanto poi alla gestione questo diventa un problema dopo ma è comunque un costo eccessivamente alto per un bisogno sociale che ritengo che non ci sia nella nostra comunità. Ormai è troppo tardi per bloccare la partecipazione al bando spiega Speziale che vuole comunque portare a conoscenza della collettività le ragioni della minoranza contrarie a questo intervento dopo il rifiuto del sindaco al quale era stata chiesta la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere l'argomento e sollevare le proprie perplessità scritte nero su bianco in un documento che proprio la minoranza ha depositato questa mattina in Comune. Quello che chiedo è, quello che ho detto anche altre volte, un pochino più di collaborazione ma soprattutto che ci si occupi veramente del bene della gente. Noi abbiamo problemi molto molto più impellenti che non hanno niente a che vedere con l'asilo nido. Abbiamo un problema dei ragazzi, dei bambini, dei ragazzi, dei giovani che sono abbandonati a se stesso. Abbiamo per fortuna alcune realtà sportive che funzionano che quindi coprono in parte questo e l'oratorio dall'altra parte ma sono le uniche realtà. Abbiamo bisogno di progetti aggregativi in modo che la gente partecipi e non stia sul suo come succede adesso. Se poi vogliamo andare sulle infrastrutture abbiamo il palazzo della scuola elementare che senz'altro serve, ha bisogno di un intervento urgente. Abbiamo strade da sistemare, abbiamo pulizia da fare, abbiamo manutenzione finché vogliamo da portare avanti senza andare a aggiungere opere che purtroppo graveranno poi sul bilancio comunale. Ricordo tra parentesi che abbiamo quel benedetto polifunzionale che non dico andrebbe finito perché so che servono troppi soldi, però andrebbe messo in condizione di funzionare e fare in modo che le società sportive possano usarlo in modo normale, in modo corretto e continuativo. Grazie. Grazie.